Ciao Danilo. Ciao ciao. Come va? Abbastanza bello. Dove siamo? Un po' freddo, a Coridonia. Coridonia? È un bel posto quando è meno 20 gradi, ci sembra di stare in Russia, ma quello laggiù è. Secondo me è un classico. Andiamo a scoprirlo insieme. Denominato Burian, a quando pare. A quando pare? Oddio, abbiamo trovato Burian. Ehi Burian! Oddio, si è fermato. È lui, è lui. È lui, ragazzi, è lui. Ehi tu, chi sei? Cosa vuoi tu da me? Voglio sapere chi sei. Io essere Burian, portatore di gelo e neve in tutta Europa. Oddio. Voi dovete solo apprezzare quello che io oggi vi sto regalando. Ok. Cosa hai intenzione di fare in Italia? Si è venuto a scaldare. Presentati. Il mio nome è Burian. Un'altra volta. Sono portatore di gelo e neve in tutta Europa. Ma abbiamo una macchina dietro. Quella macchina l'ho creata io. Non so come parlano i russi, Bruno. È così, è così, Fran. È così, Fran. Grazie.